ciao sono anna pregliasco vengo dalla regione liguria e in questo concorso canto per l'associazione diversamente valvormida si tratta di un gruppo di volontari che assistono persone con disabilità noi come gruppo crediamo che le difficoltà siano dei ponti da attraversare e che invece le disabilità siano una fonte di ricchezza per tutti buon ascolto vorrei vorrei esaudire tutti i sogni tuoi vorrei vorrei cancellare ciò che tu non vuoi però lo sai che io vivo attraverso gli occhi tuoi vorrei vorrei che tu fossi felice in ogni istante vorrei 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 stare insieme a te così per sempre però lo sai che io vivo attraverso gli occhi tuoi e vorrei poterti amare fino a quando tu ci sarai sono nato per regalarti quel che ancora tu non hai così se vuoi portarmi dentro al cuore tuo con te io ti prego e sai perché vorrei vorrei esaudire tutti i sogni tuoi vorrei vorrei cancellare ciò che tu non vuoi però lo sai che io vivo attraverso gli occhi tuoi 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 gli occhi tuoi